La lotta alle discariche abusive si fa sempre più serrata perché aumentano i depositi indiscriminati di rifiuti in luoghi non autorizzati. I comuni, nella maggior parte dei casi, per contrastare l'azione illegale, si sono attrezzati di videosorveglianza per vigilare soprattutto in quelle aree dove è difficile il controllo da parte dei vigili urbani perché è lontane dal centro abitato. Altavilla, Silentina e tre paesi dove le telecamere continuano ad incastrare gli incivili. Eccola l'ultima vittima in ordine di tempo della videosorveglianza. Le immagini mostrano chiaramente quest'uomo a bordo di un camion bianco mentre si libera velocemente di rifiuti di ogni genere, soprattutto pneumatici, classificati come rifiuti speciali non pericolosi. Il deposito abusivo immortalato è avvenuto nei pressi del ponte sul fiume Calore, una zona che continuamente viene trasformata in discarica nonostante le continue bonifiche da parte del comune. I vigili hanno visionato le immagini e nei confronti dell'uomo faranno scattare, oltre alla multa, anche la denuncia penale. A Chemerote invece, a causa della spazzatura, saranno sanzionati i venditori ambulanti che prendono parte al mercato settimanale della frazione Licusati. La Polizia Municipale ha accertato che i proprietari delle bancarelle al termine del mercato hanno lasciato sporca l'aria occupata durante la vendita e su disposizione dell'amministrazione comunale, nei loro confronti, hanno iniziato ad inviare molte anche salate. Non permettiamo a nessuno, dichiarano dalla maggioranza, di usufruire di uno spazio pubblico sul territorio di Camerota e di lasciarlo in cattive condizioni.